Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti finite le feste di natale con più o meno 10 chili in più e 10 cipini in meno perché sono volati ovunque ma noi siamo sempre sul pezzo e quindi eccoci qua si torna operativi al 100% le ferie se ne parla a gennaio perché io fino al dovrei andarmene via il 18 di gennaio per una settimana quindi in questo periodo a parte proprio quei giorni folli come capodanno dove bisogna disintegrarsi e basta e altri insomma altre festività finio sarò sempre sul pezzo con voi anche perché è un periodo caldissimo stanno succedendo cose di ogni genere è impossibile perdere il focus allora partiamo subito con un bitcoin che non è assolutamente il protagonista di questo periodo però guardatelo dai è bello ci sta stampando quello che sembra che ha tutto l'aspetto di un bottom locale manca solo l'ultima conferma dai bitcoin forza spingi dai quella spintarella in più e falla tutta e forse riusciamo a riprenderci questi 52 53 mila che ci separano dallo storno dal primo storno rialzista che non mi dispiacerebbe avremmo ufficialmente l'higher low andremo a cercare il prossimo high e andremo a creare una situazione che secondo me porrebbe basi solide per la possibilità di estendere questa condizione di mercato ancora per un po perché dall'altra parte avremmo la controparte più bearish che spero non accada anche perché ultimamente con il rischio sto alzando un attimino l'asticella anche se è sempre il nostro capitale dedicato al gambling quindi quella fettina che sapete corrisponde tra lo 0 e 5 e l'1 per cento del mio portafoglio complessivo quindi quando io parlo di protocolli ad alto rischio le dao quelli con apy fogli e quant'altro per quanto io faccia analisi fondamentali non è che butto a caso solo perché c'è l'apy alto cioè credo che dietro ci sia anche qualcosa di più come quando al tempo vi avevo parlato di wonderland se vi ricordate insomma si parla veramente di mesi fa e di fatto vedete potete vedere da come si sta sviluppando che le cose non sono banalmente dei ponzi come qualcuno l'aveva definito al tempo erroneamente ma vi dicevo il cipino ecco quelli tra virolette e cipini vanno sempre a finire dentro a quell'1 per cento massimo di portafoglio complessivo altrimenti qua si perde veramente il senno è un attimo ma se la situazione dovesse volgere al bearish quindi se dovessimo andare a soddisfare quei requisiti che ci porterebbero a una maggior probabilità di prosecuzione ribassista come un bel rifiuto di qua andare a cercare l'equal low da queste parti poi magari andare a fare un'altra cosa di questo tipo ecco purtroppo io mi aspetto che tutte quelle quei play no ad alto rischio quegli high risk play per l'appunto potrebbero veramente fare una marcia indietro importante in termini di performance quindi questo è il pericolo no finché il mercato comunque tiene un certo tipo di struttura performano bene a patto che ci sia sotto un perché quando il mercato invece inverte la rotta il rischio veramente diventa elevato quindi tenete sempre in considerazione quello io è il punto di partenza che mi scrivo a caratteri cubitali proprio per andare a pianificare quelle che sono le mosse io ve lo raccomando a ogni video ormai perché è veramente importante tutto ciò non fate delle mosse azzardate sui play ad alto rischio quindi non fate degli all in non fate delle delle entrate di dimensioni folli che se poi succede qualcosa come un'inversione di rotta del mercato è un attimo fare un meno 50 per cento in un giorno mi raccomando tenete alta la guardia e proteggetevi dal rischio il che vuol dire contenere il size tendenzialmente perché non è che si può prevedere il futuro comunque questo per dire che abbiamo di fronte adesso questa situazione che se vede bitcoin vincente contro questa resistenza mi aspetto che questa tipologia di mercato possa proseguire ancora per un po' anche se dovessimo andare a trovare un bel lower high almeno qui avremmo una situazione di respiro che ci vuole no dalla dall'ansia dell'inizio bear market e posticiperemo poi l'eventuale se ci sarà inizio bear market a un prossimo high e un prossimo low che dovrebbero essere tra l'altro strutturati in maniera brutta per dare ancora adito al bear market no e di contro se invece andiamo a strutturare una cosa di questo tipo potremmo invece andare a dare adito a uno scenario più accumulativo ne abbiamo già parlato no di queste cose adesso siamo un po' al primo test alla prima prova l'approccio con la resistenza 52 53k che insomma sarà un elemento in più per valutare sempre lo spettro probabilistico di tutti i possibili esiti guardate tra l'altro contrazioni folli nei volumi contrazioni folli nella volatilità in questi giorni ci sta è perché erano festivi e i volumi tendenzialmente nei festivi sono sempre i minimi storici e però veramente off no spegnete bitcoin tac l'hanno spento hanno fatto proprio uno shutdown slash s no di bitcoin proprio spento morto oggi sembra risvegliarsi un attimino tra l'altro nelle ultime ore no quest'ora con un po di spunti no di volumi guardate verdi che sono spuntati così anche sul low time frame che non fanno fanno presagire abbastanza bene vediamo no come sarà l'esito domani ne riparleremo e ci riaggiorneremo comunque al di là di questo ve l'ho detto non è assolutamente il protagonista bitcoin in questo periodo perché abbiamo le altcoin infuriate inferocite e non stiamo parlando dei soliti tra virgolette ethereum e layer one layer two anche se layer one e layer two alcuni stanno performando assai bene come phantom come dove è matic che ha fatto il time i in in usd insomma ci sono veramente anche lì dei trend che alla fine sono sempre verdi noi layer one e layer two dove si costruisce valore investire nell'infrastruttura è una delle mie cose preferite ve lo dico da sempre ok quindi questo è il discorso ma l'altro discorso è l'ecosistema daniele sesta che è in hype folle completamente folle quindi abbiamo phantom indirettamente perché ha detto esplicitamente di voler sviluppare lì abbiamo sushi che ultimamente lo sta pompando in una maniera atroce poi abbiamo ice abbiamo spell sapete sono tutti fortemente correlati quindi quando ne hype a uno di coda anche gli altri tendenzialmente subiscono un effetto pump proprio a causa della forte correlazione visto questo hype bisogna anche fare un attimino di attenzione perché il rischio di cadere nella fomo è elevato detto questo abbiamo l'altro trend invece che secondo me è meno in hype su cui mi sto concentrando massimamente in questo periodo che è quello delle cure wars convex wars e liquidity wars in generale no il passaggio alla defi 2.0 come vi ho accennato varie volte prevede il cambio di rotta dal liquidity mining a soluzioni più efficienti che può essere fare i bribe su curve e convex che può essere utilizzare strumenti alternativi per gestire la liquidità infatti secondo me una un elefante dormiente una bestia dormiente è tokemak e credo che ci farò un video dedicato anche se non possiedo ancora il token volevo aspettare un bel ribasso per fare una scorta folle ma non so se ha intenzione di arrivare ma io sono convintissimo che sia veramente un gigante dormiente ma ne parliamo meglio dopo poi cosa abbiamo che cosa vi ho tirato fuori un po' di update sulla chronos chain un po' di cose eccetera 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 però partiamo con ordine allora partiamo con le con daniele dai che in realtà non perché non l'ho tirato fuori non lo so sono completamente on fire anch'io ultimamente veramente fomo alta fomo alta niente da dire allora danielone l'ultimo tweet in particolare ci ha infuriati tutti perché dov'è eccolo qua dice che sushi il poi ho risposto ovviamente a tono e sushi in sostanza vuole diventare un ex c'è un dex no a piani folli per sushi farlo diventare il dex dominante vabbè chiaramente è leggermente di parte il danielone massima stima ma è un pelino di parte quindi va sempre preso con le dovute pinze anche se io credo in tutto ciò che fa lo sapete ormai ve ne parlo da sempre no credo di essere stato uno dei primi a parlarvi di di abracadabra e di tutti i dintorni nonché di wonderland quindi sapete che ho massima stima e soprattutto credo nel suo lavoro ma chiaramente la sua voce è sempre ipergasata quindi anche lì un attimino di filtro ma il l'obiettivo interessante nella tokenomics di sushi che ha quello che cambierebbe un po molto no le tokenomics di sushi e farlo diventare simile a spell quindi andare a rendere sushi una sorta di come si può definire un'azione che ti da dividendo pari alle fi generate da sushi quindi qua dice immaginatevi che le fi di bainance fossero distribuite a tutti token holder ed è lo stesso che vuole fare con sushi quindi in sostanza le fi generate dai vari trade dal protocollo vengono redistribuite esclusivamente e totalmente soprattutto ai vari token holder e vola un altro cipino ecco quella è stata la mia risposta comunque no molto interessante come cambio di tokenomics e il puzzle della sua defy vuole proprio essere la vera sushi come dex la vera e popsicle come market maker perché va a ottimizzare la liquidità e chiaramente andrà a dirigersi enormemente su sushi poi ci sarà abracadabra come landing protocol quindi anche lì liquidità folle money market e wonderland come venture capital quindi come tesoreria diceva nella live che abbiamo fatto con coin square se vi ricordate mi manca solo il liquid staking ma stiamo pensando di sviluppare qualcosa del genere quindi anche lì sarà interessante vedere come dove quando perché e dintorni comunque è in dubbio che bisogna tenere gli occhi puntati su quello che faccio e seguitelo ve lo raccomando perché sta veramente spingendo sulla defy sta facendo cose importanti e sempre senza farsi prendere dalla fomo bisogna seguirlo ascoltarlo e studiare tutto ciò che fa torniamo invece a un settore meno in fomo ma sul quale io vi voglio fare una testa così perché io credo che sarà uno dei prossimi trend molto più immediati ovvero le curve wars convex wars e dintorni allora non vi sto a rifare tutto il preambolo ogni volta altrimenti vi faccio veramente vi rompo le palle ma i bribe in questo round l'ottavo round di bribe su votium quindi tramite convex sta crescendo giorno dopo giorno io non mi so spiegare come dove quando ma tra l'altro ormai è finita la scade quindi non si può più braibare ormai manca cinque ore ma guardate che roba 20 milioni di dollari sono stati dedicati all'ottavo round di bribe il che vuol dire cioè per comprare i voti per ridiriggere le ricompense in crv sugli specifici pool in particolare quelli che hanno braibato di più sono stati frax mim convex stesso che vuole il suo pool cvx e th che ha migrato su curve vi ricordo cvx crv l'altro pool di convex stesso che ha migrato di nuovo su curve erano su sushi gli hanno migrati su curve crv e th che è sempre non mi ricordo è di curve questo mi sa non di convex non ricordo vabbè poi wormhole con ust questo anche mimo ust quindi terra daniele wormhole sono un po' tutti nella stessa galassia tra l'altro wormhole è un bridge su cui daniele punta molto aveva detto e poi dei dei bribe minori sotto il milione che comunque possono essere potenzialmente interessanti ma guardate la cosa che è pazzesca è che innanzitutto per i briber ci sono è cresciuto il valore cioè cinque dollari di emissioni in liquidità per ogni dollaro speso in bribe questo vuol dire che è come se loro fossero pagati per braibare cioè vuol dire che spendere un dollaro per comprare voti su votium ti dà cinque dollari di liquidità direzionabile al tuo pool è cinque volte più efficace che fare liquiditi mining per questo motivo stanno tutti aprendo gli occhi tutti i protocolli su questo sistema e per gli holder di cvx guardate che cosa folle 0,93 dollari 0,94 per ogni vl cvx delegato a votium il che vuol dire esempio qui era ancora 0,9 adesso è salito a 0,94 che se tu hai 10.000 cvx e li vai a delegare a votium tu fai 9k in questo round perché tu prendi 0,90 per ogni cvx che tu deleghi e si parla di due settimane non è un apy è in due settimane è un rendimento incredibile per gli holder di cvx e per chi va a braibare quindi è una di quelle situazioni dove chi è maggiormente avido cioè se tutti sono avidi ai massimi livelli il sistema funziona meglio e un sistema di questo tipo è una flywheel che non può che funzionare alla perfezione e crescere motivo per cui sapete quanto sto spingendo su cvx ultimamente ecco non non so che altro dire è abbastanza evidente che è un qualcosa destinato a crescere tra l'altro si è espanso anche a frax lo sapete e questo è un po il motivo che mi fa essere estremamente bullish tra l'altro su ultimamente ha cresciuto molto in realtà io vi ho detto c'è meno hype ma non è neanche troppo vero convex e curve sono i primi due tvl nell'intera defy è veramente incredibile convex soprattutto ha avuto una crescita disarmante ma molto è cresciuto ultimamente la defy sta cioè è in crescita a prescindere dalla situazione di mercato guardate il trend parla da sé è uno di quei settori che non credo vedrà crisi si potrà vedere una contrazione anche forte in caso di bear market importante ma sarà dovuta soprattutto alla perdita di valore dei token la defy è qui per restare poi sempre su quest'onda adesso cerchiamo di seguire questo quest'onda qui dei del bribing di questo nuovo di questa nuova gestione della liquidità sapete cioè io non vi scillo le shit coin io sarò quando scillo scillo perché me ne rendo conto che vi sto rompendo molto le palle ma si parla di fondamentali molto forti cioè io vi scillavo la defy all'inizio al momento in cui compound lanciava il suo token vi avevo scillato gli nft quando c'erano le prime stupidaggini vi avevo scillato il play to earn ai tempi di uscita di la ico di ax infinity cioè vi faccio delle scilla poi 9 su 10 io non ci guadagno niente perché io sono sempre troppo cauto e la prendo in quel posto però vi condivido tutto ciò che reputo importante quindi insomma ascoltate approfondite ne vale la pena poi chiaramente non sono mai con conigli finanziari come come si suol dire ma facciamo un passo in più perché qui salta fuori l'altra cosa su cui sto diventando matto cioè tokemak che devo approfondirlo ancora benissimo perché mi manca quel quid da di punta no la punta della conoscenza da da affinare le basi le ho capite è veramente complesso come mondo che in sostanza punta raccogliere a convogliare liquidità sui sugli asset più influenti della defy e adesso capisco perché ha puntato su frax dall'inizio frax me lo so insegnato tra le cose da studiare mi ma una lacuna non conosco e di fatto punta al creare un bacino di liquidità che poi adesso vi avevo tenuto anche quest'ultimo articolo che è uscito da poco dove spiega la logica con cui bilanci reattori non penso che ne parleremo perché siamo a livelli abbastanza alti però vi volevo sottolineare solo un punto questo qui vedete come viene maneggiato tutto questo che in sostanza ci sono degli incentivi lato liquidity provider e lato liquidity direction perché ci sono i token holder di token che decidono votano sul dove mandare la liquidità e i protocolli chiaramente saranno interessati a diventare liquidity directors è lì che voglio arrivare no la logica del bribing cui si applica i massimi livelli in ogni caso dunque vabbè qui viene spiegato un po' tutto quanto e dice che l'assunzione fondamentale cioè la base su cui ha sviluppato tokamak è che gli utenti saranno dovrebbero essere gridi ai massimali cioè più avidi possibile e il maggior il miglior funzionamento del sistema tokamak è quando tutti i partecipanti liquidity director e liquidity provider puntano al massimo rendimento questa è una logica su cui si dovrebbero basare tutti i sistemi defai esistenti poi se volete farvi dei pipozzi ci sono tutte le equazioni dei reattori amicareattori che però la laurea in fisica nucleare io sono il primo a non averla e voi penso neanche però può essere interessante insomma per approfondire anche perché è molto early no come progetto ma io ho già visto ho già trovato botte mac che è proprio un un portale di bribing per tokamak su cui ci sono già un milione e novecentomila dollari di incentivi attivi quindi non lo so mi sembra che molto si stia muovendo anche in questa direzione e quindi non davvero va tenuto d'occhio studiatevelo ne potrebbe valer la pena potrebbe veramente essere interessante e soprattutto è un qualcosa di cui ancora si parla molto molto poco parte io che vi faccio una testa così ormai non lo so quando me lo sentirete dire dire basta basta parlaci di altro ti prego ma probabilmente lo farò e non è che voglio adesso ogni volta dirvelo però io ci tengo a farvi vedere quelli che secondo me sono potrebbero essere i trend emergenti per evitare di correre dietro al metaverso di turno che è già ai massimi che è già in bolla è meglio concentrarsi un po sul futuro e su ciò che ha del gran fondamentale immediatamente applicabile poi adesso vediamo veniamo al al gambling dunque chiudiamo pure tutto ciò botte mac chiudiamolo ecco a proposito di gambling redacted che è il mio gamble che va un po' in questa direzione però perché io lo vedo come un qualcosa che ha il potenziale di diventare un buco nero per mangiarsi tutti i convex cvx crv per cercare di dominare la scena no delle convex wars e delle curve wars che stanno diventando molto contese appunto le dao avranno un ruolo importante lui è il braccio destro di olympus dao che è la dao dominante sono curioso di vedere wonderland come si porrà in tutto ciò wonderland ha già comprato una quantità industriale di cvx per sé quindi voglio vedere se il massimo che ci potessero ci possano essere sinergie tra redacted e wonderland pure però sono curioso di vedere che accadrà tra l'altro nel q1 2022 lancia concave che è un'altra cosa che non si riesce a capire cos'è ma a che fare con questo scenario quella dei cucchiai per capirci che io ho preso il cucchiaio che dà diritto all'air drop iniziale del token ve ne avevo parlato nell'ultimo nell'ultima live insomma secondo me c'è c'è del potenziale qua si parla di rischi estremi mi raccomando ve lo sottolineo ogni volta però ci sono rendimenti estremi è il solito rebase poi vabbè adesso è abbastanza trending ma perché è appena stato lanciato e massimo rischio estremo rendimento cioè c'è poco da fare soprattutto con la consapevolezza che questo non è un entra esci rapido perché ha una sua etereum con le fidi etereum quindi butterfly l'acquisto lo staking e tutto quanto vi costa un occhio della testa in fi e in seconda battuta è un cioè premia il tempo no come con wonderland come con rondao che ve l'ho messo lì anche quello perché mi continuate a chiedere aggiornamenti sono gamble dei gamble ma non da dentro e fuori immediato ma sono dei gamble che bisogna per estrarne il massimo valore bisogna rimanerci dentro per un po sempre se le cose vanno come previsto quindi ci sono due scenari no lo scenario di estrema profittabilità e lo scenario di perdita notevole questi sono gli esiti possibili per questo bisogna fare dei studi degli studi approfonditi per non buttare soldi nei ponzi a caso no solo perché hanno i py alti bisogna studiare i fondamentali che ci sono dietro perché comunque è un modello questo delle dow che funziona ha preso piede ma ce n'è veramente una quantità industriale e 9 su 10 scammeranno lo sappiamo quindi bisogna uno scegliere quelle che non scammano esempio olympus wonderland e secondo me redacted ma anche senza secondo me perché è ufficialmente un branch di olympus dow e in seconda battuta andare a calcolare i rischi cioè cosa c'è in gioco quanto si può rischiare contenendo il size come al solito però al momento insomma lo sapete che io adesso vi aggiornerò periodicamente per adesso di notizie da loro non mi sembra che ce ne siano di novità anche perché ci ho guardato proprio stamattina io sono anche sul loro server discord tra l'altro vedete concave che va un po e collabora anche con loro insomma sono curioso di vedere come si sviluppa tutto ciò soprattutto al lancio di concave che sarà nel cuno 2022 quindi perlomeno fino al cuno 2022 io ho intenzione di mantenere la mia posizione su redacted anche perché appena lanciato non ha nessun senso altrimenti uscire adesso anche se comunque il profitto ci sarebbe e sarebbe già interessante ma trovo che non avrebbe senso come giocata no perché comunque mi sono esposto a un rischio di un certo tipo ma per un rendimento di un certo tipo altrimenti si va a cambiare la proporzione rischio rendimento rendendola senza nessun tipo di senso quindi ragionateci sempre queste non sono piattaforme su cui fare un lean non sono piattaforme da considerare investimenti sono rischi estremi rendimenti estremi gamble ok sono gamble a proposito di gamble abbiamo anche il nostro rom dao che sta si sta muovendo anche questo un una di quelle cose da da gestire nel tempo da non fare dentro e fuori anche perché vedete che il prezzo di rom io ero entrato qui con rom sui 900 dollari quindi guardando il prezzo di rom uno dice bocci hai smenato i massimali totali in realtà poi vedete che in cinque giorni ti dà il 10 per cento poi ripeto il discorso è sul tempo qua su questi protocolli il il rendimento è sul tempo questo lo reputo a rischio maggiore di di redacted ad essere sincero perché fa leva su concetti di gamification su concetti comunque più fine a se stessi tra virgolette però lo trovo interessante infatti la mia posizione su roma è più piccola che quella su redacted di poco stiamo parlando di cipini davvero e in ogni caso vogliono integrarsi con remarkable per sempre il tema della gamification vogliono lanciare il loro ipy rpg lo chiamano che è un gioco strategico no che doveva essere proprio il loro cavallo di battaglia rompro che è un modello simile a olympus pro quindi le cose vanno avanti io li seguo sono interessato vedi è cresciuto il loro team hanno 20 dev vediamo è un gamble super gamble questo e comunque siamo siamo sempre lì poi questo è quanto per ciò che riguarda il lato gambling che adesso poi devo piantarla di di parlarvi di queste cose perché ho paura che poi fate i pin e mi sento in colpa perché io non voglio vi voglio solo far ragionare su temi come il rischio e il rendimento ma se volete buttare qualcosa su una shitcoin piuttosto buttatelo su redacted cioè quello sì davvero per comprare shiba inu allora conviene veramente gamblare su un qualcosa che può avere un senso purtroppo redacted ha le fee di ethereum quindi non ci si può buttare i 100 euro perché ne spenderesti 200 in gas fee però è un gamble di più alto livello che si basa su fondamentali più sensati ecco questo è un po' l'alfa no quello che si chiama alfa quel trovare il craccare un po il sistema trovare il massimo rendimento a rischio contenuto a rischio quantificabile perlomeno è un po' questo questa direzione qua comunque poi varenx il nostro bridge cross chain basato su ren ha introdotto meme quindi si può andare a brigiare che figata guardate da meme a btc nativi e viceversa utilizzando proprio ren quindi non parliamo di ren btc ma parliamo di btc e sono swap cross chain bomba atomica quindi veramente uno dei miei bridge preferiti ora come ora perché permette di dal nostro ledger con btc avere a brigiare e suopare con meme quindi entri nel mondo dei fai direttamente così poi cos'altro abbiamo allora ecco per chi non vuole diventare pazzo folle completo totale ci sono sempre lecce fai perché ogni tanto qualcuno mi dice ma io voglio la mia rendita senza impazzire senza gambling senza qua senza la e come ce fai io sono sempre di parte diciamo sono trovo una delle migliori piattaforme block file soprattutto per le stable coin per quale motivo perché il tasso di interesse per il momento è rimasto invariato parliamo di un buon nove e mezzo per cento fino a 40 mila usdt e poi abbiamo anche un 9 per cento su pax su usdc eccetera eccetera quindi se si splitta un po le stable coin in diversi diverse coin no si riesce a ottenere comunque una media di un nove nove e mezzo per cento di apy che è sicuramente interessante senza dover usarla defai senza dover aver conoscenze quindi magari nel frattempo vi studiate il mio corso gratuito di defai ma se non volete tenerle lì ferme e metterle a rendita su una piattaforma che tra le più sicure complianti sede americana eccetera 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 c'è block file che secondo me è il non plus ultra e inoltre c'è il solito bonus di benvenuto per i nuovi utenti fino a 250 dollari pagati in btc dipende da quanto ci si deposita vedete questo è un po il sono i diversi livelli no di bonus e il bonus è prelevabile subito cioè dopo bisogna depositare o il dare per 30 giorni ti dà il bonus e da lì poi ci puoi fare un po quel caspita che vuoi compreso il tenerlo lì a generare altro interesse e vi lascio devo oscillare il referral link mi dimentico sempre che bugiardo lo faccio apposta cosa dico che mi dimentico sempre eccolo qua tac se vi dovesse interessare poi cos'altro abbiamo dunque io qui vi avevo tirato fuori un'altra defai su solana stavolta però non so se parlarvene oggi facciamo di no perché vedo che il tempo sta passando siamo sopra i 30 minuti ve la accenno soltanto è una defai su solana che si chiama katana e in sostanza permette di ottenere un rendimento abbastanza alto perché su sol su eth su btc però utilizza delle cover call quindi non è a rischio zero dipende poi dall'andamento di mercato la cover call è una strategia con le opzioni che in sostanza tu detieni il sottostante e vendi un'azione call che è l'azione rialzista e questa strategia chiude in profitto in un certo range di prezzo che dipende dallo strike price dell'azione dell'opzione in questo caso ad esempio lo strike price a 4750 la scadenza dell'opzione tra 85 ore se il prezzo di eth supera lo strike price c'è il rischio di andare in perdita quindi ripeto non è a rischio zero è interessante come tema di diversificazione del rischio proprio no perché tu depositi eth e hai il automaticamente questa cover call passiva che viene gestita da katana però non è proprio banale no come come piattaforma defai quindi magari ne parliamo in maniera più specifica in un secondo momento adesso ve la butto lì sappiate che esiste se qualcuno è già un po pro e la vuole ci vuole smanettare esiste però considerate che è una cover call quindi con i rischi della cover call mentre sto seguendo l'andamento di tectonic una cosa un po' più semplice da gestire la nostro money market su su cronos perché lo sto seguendo perché sapete che appena stato lanciato all'inizio gli apy sono molto alti perché la liquidità ancora contenuta e sono curioso di vedere come cambiano queste cifre all'aumentare della liquidità ora come ora sono sempre interessanti ma si stanno già un po' contraendo sono interessanti soprattutto se si pensa al borro allora il lato supply si sono praticamente dimezzati gli apy mi ricordo che su cro avevamo quasi un 40 per cento adesso abbiamo un 20 e qualcosa poco più di 20 che non è comunque male se volete la mia modesta opinione per depositare cro single side quindi senza impermanent loss senza rischi e non come in vvs che tu hai cro btc cro atom cro qualcos'altro quindi single side è il miglior rendimento su cro ora come ora mentre lato borrow ci sono degli apy interessanti vedete sugli asset ovvero btc e th ma in realtà anche sulle stable perché il netto è ancora un pagare il 10 per cento quindi non è malaccio combinare ad esempio dunque stavo riflettendo su come si può andare a combinare un si potrebbe per chi vuole rimanere esposto a cro per esempio andare a depositare i suoi cro qui quindi andando a guadagnare questo bel 30 per cento quasi con quei cro come collaterale si va a borroguare delle stable con un altro buon quasi 10 per cento pagato pagato perché poi il netto è positivo quelle stable le si va a girare a rigirare in un po di modi magari le si caccia su anchor le si brigia su terra e le si caccia su anchor oppure direttamente su vvs dunque che abbiamo di bello su vvs su vvs stable stable se non erro non c'è niente di interessante o quasi allora fatemi ceccare fatemi ceccare fatemi ceccare allora stable stable no c'è sempre cro 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 perché altrimenti si potrebbe stavo pensando a una combo di questo tipo cioè depositare una parte dei cro una parte la tengo con questi cro depositati a rendita vado a borroguare bitcoin con un buon 15 per cento in tonic e poi cro btc li vado a sganciare qua dentro oppure subiti no con una e un apy che paga cosa sarà lo 0 5 al giorno combinando tutto ciò si ottengono delle rendite veramente veramente interessanti quindi ecco vedete perché tectonic è utile per far crescere l'intero ecosistema e per aumentare la domanda guardate che domanda c'è per cro tra l'altro il 90 per cento dei cro sono borroguati pazzesco questo è cro tanta tanta come sta andando cro a proposito che ha un po che non lo guardo effettivamente ha fatto un bel bounce degno di nota degno di nota molto molto bene e per cioè il metodo più semplice per portare questi asset su tectonic e su cronos a usare l'app di crypto.com come bridge quindi wallet app crypto.com buonanotte.com vado a cambiare o direttamente a prelevarli su cronos e poi ce li ho a disposizione da metamask su sulle varie d'app super top e tra l'altro a proposito di cro di crypto.com se usate il mio referral link se non avete non so chi ancora non abbia l'app di crypto.com ma se vi volete registrare con il mio referral link se poi ordinate una delle carte premium avete 25 dollari di cro in regalo in bonus trovate il link in descrizione ho terminato acqua ghiacciata vieni a me questo periodo raddoppiare le dosi di acqua ghiacciata perché veramente stiamo siamo alla follia siamo veramente tonici per usare sempre un termine affine e bene 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 quindi tocca a voi ragazzi tocca a voi questo l'abbiamo già visto sushi all you can eat block five veloci lato ronda o butterfly redacted varenix redacted bene 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 a voi la parola amici miei sfogatevi sfogatevi chiedete domandate dunque 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 ciao luca ho sentito la vostra live questa mi piaceva ho sentito la vostra live degli avengers con daniele che non avevo mai sentito dal vivo io ti consiglio di ascoltarlo anche in inglese perché compare spesso compare spesso e quelle cose lì le aveva già dette comunque in nei suoi podcast no su twitter a volte fa degli spaces che sono appunto dei dei podcast vocali dove droppa alfa pam 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 cannonate di alfa sono indeciso se pensare che sia un pazzo completo un megalomane un fottuto genio tutte tra le cose tu che dici tutte tra le cose assolutissimamente avete paziente avete presente no al genio sregolatezza qualcuno diceva lui luke considerato il tasso di difficoltà delle curve wars potresti fare un bel tutorial sul corso di defy ma voglio tenerlo per le ultime puntate infatti dove si parla di strategie inoltre un parere su torce in torce in è destinato a crescere di pari passo col crescere del trend della cross chain quindi è un trend decisamente importante anche quello va studiato va studiato sei cro per fare il claim di tonic troppo sei cro sono salite così tanto le fi mio dio ma no dai io l'avevo usato qualche giorno fa e ma sei sicuro di aver settato bene i parametri del gas mi sembra tanto e mi sembra veramente tanto veramente tanto dunque 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 ciao luke l'80 per cento dei chsb swissburg è allocato tra staking e yield a funzionalità simili a cro che sia chsb il prossimo token a prendere questo trend gli daresti uno sguardo allora chsb non l'ho mai analizzato lato lato proprio grafico purtroppo non ci sono ossì dei grafici longevi non si guarda non è vero ci avevamo guardato e sembra aver creato un top abbastanza importante in questa zona qua poi è droppato qua giù potrebbe aver fatto un higher low e adesso vediamo se riprende qui se riprende 1.400 potrebbe non essere male che volumi di scambio a non tanto alti vero se non ricordo male comunque al di là di tutto swissburg è interessante come app però non puoi paragonarla cripto.com cioè è veramente due di due ordini di grandezza diversi due dimensioni differenti cripto.com è cripto.com mentre swissburg c'è tanta roba ma è swissburg ok questo è il discorso poi l'ultimo token di elon ti ha sfuggito guarda voglio che mi sfuggano tutti non ne voglio sapere niente niente di quelle robe lì perché basta basta non ne posso più non ne posso più et hbtc possibile double bottom allora et hbtc opla double bottom where dove double bottom aspetta vediamo ah sul daily ma guarda più che double bottom io vedo un rischio di costruttori bassista qui quindi starei molto attento perché se andiamo a perdere questo supporto ci si può andare a inabissare qua cioè inabissare si può andare a tornare qua dentro e quindi ritornare nello scenario di range bisogna un po ripartire ecco quindi non è il momento di longare it per me per quanto mi riguarda no not financial advice chiaramente quando una puntata sul corso di defy per principianti sulle piattaforme di prestito decentralizzato amico mio tu leggi il futuro il futuro perché la prossima giovedì quindi mancano per i mercoledì giovedì tre giorni meno tre giorni sarà proprio sulle piattaforme di landing quindi siamo sul pezzo siamo sul pezzo poi vediamo tu hai detto però che il defy exchange anche su solana daniele farà la stessa cosa con sushi no era il discorso dell'order book su solana c'è serum che c'è un order book decentralizzato e lui vuol fare la stessa cosa su sushi su phantom aveva detto su network phantom poi c'è luca esiste un modo per mettere a rendita i bet che ho ottenuto dallo staking su binance sono già a rendita no sono fatti apposta e poi dunque c'erano su pancake swap ma adesso mi pare che non ci siano più quindi mi sa che la risposta è no purtroppo cioè sono a rendita già di per sé noi bet generano l'interesse di etereo un 2.0 poi 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 vediamo dove siamo finiti pensi che fra due mesi quando partirà la governance astro ve astro si comporterà come crv guarda io un'altra cosa che sento dentro mi aspettavo a dire che il trend del vie token tipo vie crv è destinato anche quello a crescere no e la cosa mi rende ancora più bullish su convex sono troppo bulli su devo bere acqua ghiacciata aspettate un attimo molto bene allora no il vie crv il vesting fino a quattro anni col potere di voto bla 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 funziona la defy se ne accorta e quindi secondo me questo modello che l'ha preso anche frax perché frax aveva frax è uguale no e secondo me è destinato a essere adottato sempre di più e se viene adottato sempre di più cosa succede poi che convex che ci va a notte con questo modello qua mette radici ovunque e quindi acquisisce potere di voto ovunque basta la finisco basta parlare di convex smettila poi 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 dunque vediamo cosa abbiamo a con 20k su tectonic sono dovuto uscire perché tra fees e tonic non era affatto conveniente e tonic ha praticamente messo un lock virtuale sulle reward facendo un contratto di claim inefficiente col gas ah ho capito non ha senso claimare al di sotto di una certa soglia ma dai che storia ma davvero cioè quindi in sostanza tu hai una sorta di minimo da pagare per forza in gas quindi o vai a farmare a lungo termine oppure è peggio ogni harvest ti costa un occhio della testa incredibile incredibile è una novità questa incredibile quando prova ad entrare su the central end mi si impalla il pc e conosco cosa vuol dire che tu sappia bisogna possedere pc molto potenti per i metaversi guarda ci vuole un botto di ram a me si intalda la ram in una maniera folle perché girano su browser e sono inefficientissimi poi cosa ne pensi di wonderland guarda ne penso penso cose positive ci avevo fatto anche un video dedicato io credo che con wonderland daniele vuol costruire una sorta di venture capital decentralizzato quindi raccogliere capitale finalizzato essere gestito attivamente no questo capitale da utilizzare eventualmente anche per investire in altri progetti cioè funziona è tanta roba secondo me però attenzione che il rischio elevato cioè scordatevi l'idea che continua a rendere come sta rendendo ora è dietro l'angolo no il rischio di drop già il rischio c'è ed è alto rendimento alto rischio alto mi raccomando però non è un po cioè non penso che sia un ponzi fino a se stesso poi babbaba vediamo vediamo dunque dove siamo finiti analisi grafico cvx purtroppo c'è poco storico perché su binance è questo quindi lo possiamo buttare nel cesso mentre cvx usdt su coin x che è un exchange come vedete privo di volumi è così e sono veramente in difficoltà sono in grossa difficoltà sul gestire una posizione speculativa con un grafico del genere quindi vorrei vedere vediamo se c'è della cvx btc non esiste cvx usdt dove ce l'abbiamo fare cioè fare analisi tecnica su un grafico con poco su un exchange con poco volume ok x wabi però avevo visto che erano ancora meno la roba impossibile da analizzare questa veramente impossibile purtroppo poi 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 secondo te al lancio di astroport il to il token pomperà o damperà allora era da un po che non la scomodavo una regola guardate una regola aurea che vale sempre è che non potete prevedere il prezzo di un token scordatevelo cioè senza ma anche se c'è un evento importantissimo bulliscissimo non è possibile prevedere il prezzo di un token quindi si può studiare i fondamentali e pensare a quello che secondo noi può essere il valore intrinseco ma il prezzo è veramente imprevedibile comunque la sfera di cristallo dice 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 dai cosa ne pensi cosa ne pensi non dice niente si è rotta la sfera di cristallo dice pomperà speriamo è bullish però è una sfera di cristallo e quindi cosa c'è scritto qua non sono consigli finanziari brava sfera di cristallo allora poi 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 vediamo le ultimissime cose poi devo volare in lo so che vi interessa molto eh lo so cosa ne pensi della defy su stellar c'è della defy su cosa c'è c'è qualcosa su stellar non non ne so niente mi dispiace non ne so niente ciao ma se acquisto bitcoin adesso giusto per averne qualcuno amico mio chi meglio di te può sapere se va bene o no cioè abbi una strategia ti dico solo questo non comprarlo a caso perché secondo te tra un mese salirà che altrimenti va a finire che panic xl lo so già lo so già poi allora ciao luco appena preso un ledger nano x ma quando dici di generare il seed di metamask direttamente dal ledger cosa intendi come si fa allora no tu prendi il tuo ledger dove dove il mio ledger ragazzi abbiamo un problema ah no l'avevo ok no niente come non detto tu prendi il tuo ledger lo inizializzi e lui ti dà un seed no di 24 parole 12 a tua scelta quel seed te lo conservi non lo fai vedere a nessuno lo conservi offline guai a te se lo esponi da qualche parte cioè devi conoscerlo solo tu e con quel seed cioè scusa con quel ledger poi lo importi su metamask tu apri metamask c'è importa hardware wallet non ti fa più inserire il seed attenzione non devi reinserirlo su metamask tu da metamask crei un wallet a caso che ti darà un seed che puoi anche puoi farci quello che vuoi con quel seed perché tanto lì non ci metti niente niente lo lasci vuoto e poi fai importa hardware wallet ti importa il tuo ledger il tuo account del ledger e così firmi le transazioni sul ledger non devi generare altri seed se anche perdi il seed di metamask cambi computer tu generi un nuovo wallet vuoto su metamask importi il ledger e hai sempre tutto a portata di mano da lì ok quello è un po il discorso il seed mettilo in chat come airdrop ci sta dai perché no va bene lo stesso se poi porta un wallet vuoto spero è ok allora amici miei amici miei è il momento di vedere due grafico zilio posso sapere dove fai trading ma di solito su ftx su ftx perché ha liquidità massima fi minime eccetera 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 quindi ve l'ho già scillato abbastanza dai oggi mi sento in colpa se vi scillo anche ftx non ce la posso fare non ce la posso fare allora 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 amici miei direi che è ora di guardare due grafici allora btc l'abbiamo già detto no abbiamo detto che sta sfidando i 52 53k vediamo quale sarà l'esito lo recuperiamo rimbalziamo in basso rifiuto netto vediamo se lo recuperiamo ottimo storno rialzista respiro per tutto il mercato maggior tranquillità magari vedremo anche i volumi risalire sarebbe un buon segno perché vorrebbe dire che il rimbalzo è partecipato dalla domanda quindi tutte cose belle se invece rimbalziamo a ribasso tac ahimè rimaniamo interni a questo range e dobbiamo vedere come ci comportiamo di nuovo con range low quindi tensione un pelino più alta perché se il range low poi lo perdiamo so cazzi e se invece a range low lo teniamo rimbalziamo di nuovo di nuovo range range high come lo sfidiamo vinciamo non vinciamo e così via classica dinamica da range purtroppo non si può renderla più di tanto emozionante è così è così questo è il livello chiave da recuperare e sotto abbiamo il range low a 47k ed intorni sempre e th l'abbiamo già visto col suo triangolino ribassista che non è benissimo messo quindi occhio perché se perdiamo qua se perdiamo i 0 0 7 8 insomma abbiamo perso un po questo abbiamo invalidato a ribasso la struttura se invece qua diventa un'altra volta una scusa per la domanda per rimbalzarci tanto meglio e vorrei vedere un higher high no come una sorta di w qua a proposito di w ragazzi atom a qui prima qualcuno mi aveva fatto una domanda su atom chiedendomi se atom era gambling mi pareva di averla letta con la coda dell'occhio allora non è gambling non è una di quelle piattaforme a rischio elevato rendimento elevato cioè una coin è una coin con secondo me dei degli ottimi fondamentali e una utilità da capire no ve l'ho sempre detto il suo problema attualmente all'utilità però in futuro ci vogliono lavorare su questa cosa voglia vogliono renderla utile quindi è di fatto una coin con un rischio comunque che c'è però non è lo stesso rischio per capirci di redacted o ronda o wonderland o simili ok è una coin un asset speculativo con componente speculativa notevole ma anche valore intrinseco e qui guardate c'è la w di tutte le w bambam 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 che roba quindi se ci andiamo a riprendere questo 6.400 nonché 7.400 cioè questi due bam non male non male perché qua è un giga mega bottom guardate quanti volumi si sono accumulati lì tra l'altro vabbè qua andiamo un po troppo nel passato se rimaniamo nel presente qua c'è la maggioranza di volumi accumulati quindi tanta tanta roba attenzione attenzione poi 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 che altro abbiamo da vedere di interessante la total la total che attenzione guardate bene cosa ci sta combinando perché questo è il primo segno è se la total inizia a gravitare qua abbiamo finalmente un una cosa di questo tipo cioè passiamo da downtrend a rimbalzo e quindi non male per la situazione globale del mercato mentre le alt nessuna novità piatte piattume piattume siamo sempre qui dobbiamo capire se rimbalzare o estendere ulteriormente quindi alt to the moon vediamo vediamo poi phantom ci abbiamo un occhio phantom allora bravo phantom torniamo sul settimanale abbiamo appena chiuso anche le settimane tra l'altro settimanale che ha chiuso andando a ritestare dal basso guardate praticamente l'all time i allora tac tac cancelliamo questo che mi sta sulle balle dunque ecco c'è un pool di offerta qui in sostanza vedetelo tac tac così rosso fuoco e vediamo adesso che ci va a combinare cioè se va a riprenderselo qui con tanto di chiusura settimanale tanta roba altrimenti per adesso siamo in range cozzato a rialzo adesso andremo a cercare magari un low locale magari più alto e quindi potrebbe essere un trampolino per l'ingresso perché no sul daily vediamolo sul daily come ci potremmo comportare dunque abbiamo se ne abbiamo di di checkpoint intermedi però per adesso è tutta sfera di cristallologia quindi bisogna fare un attimino di attenzione il point of control 4006 quindi vediamo se tornare fin lì non lo so se lo farà però per adesso insomma la configurazione è di range se fa un'altra leg up cambia e poi poi sushi sono sicuro che vi anticipo andando ad analizzare sushi hai visto sushi sta volando infatti maledetti maledetto danielone e dunque allora teniamo in considerazione quello che è il quadro generale no di sushi che ha avuto un forte downtrend la struttura è ancora abbastanza ribassista facciamo un bel reset generale e andiamo a vedere quelli che sono i livelli chiave 1 2 3 questi 3 e poi qua direi che ne abbiamo uno abbastanza rilevante quindi qua abbiamo un po di resistenza e lo vorrei vedere qua ve lo dico proprio quindi o qua del dire ha penetrato tutte le resistenze e quindi questi sono tutti buy sono tutte buy zone speculative oppure adesso ci infanghiamo un attimino qui ritracciamo e andiamo a cercare di anticipare il costrutto di bottom quindi higher low si entra con stop loss sotto i minimi ci stanno come come play speculativi no come non so come la vedete ma io non la vedo malaccio aspettate che lo salvo e amici questo è quanto per oggi direi che vi ho tediato con abbastanza cose abbiamo parlato di abbastanza cose e quindi direi basta dai ora la palestra chiama vi lascio andare cro l'abbiamo visto prima amici miei cro l'abbiamo visto poco fa che insomma si sta cercando il suo high voglio vedere la struttura finita prima adesso un po presto è ancora abbastanza in discovery e bene no dicevo noi ci rivediamo il prossimo mercoledì quindi dopo domani domani vi volevo droppare un altro video interessante strategico no su una strategia di farming per un eventuale mercato ribassista qualora ci sarà non so se ci sarà ma magari sì magari no ma è una strategia che vale a prescindere secondo me mercoledì ci rivediamo in live ci aggiorniamo sulle nostre follie sulla situazione del mercato nel frattempo fate i bravi non fate i pin non sovraesponetevi in nulla in particolare sugli asset ad alto rischio perché se no vi fate un male cane un male cane e bene basta questo è tutto grazie a chi si abbona vedo che ogni tanto vi abbonate vi ricordo è un po che non ve lo dico che con amazon prime potete abbonarvi gratuitamente al mio canale su twitch per voi a costo zero per me una piccola veramente piccola donazione ma vi ringrazio di cuore lo stesso e io vi vi faccio un carissimo saluto e ben ritrovati perché le vacanze sono finite ora si torna sul pezzo e alla prossima ciao ciao